macro categoria imprese categoria comunicazione il premio è eccellenza dell'anno leadership comunicazione b2b leggiamo insieme la motivazione per essere un punto di riferimento nel panorama italiano nel campo della comunicazione del marketing b2b per le comprovate competenze e la leadership dimostrate nel creare progetti tailor made capaci di sfruttare e sviluppare al meglio i punti di forza dei propri clienti il premio va a inside comunicazione do il benvenuto a luca targa sio e direttore strategico di inside comunicazione luca bentrovato complimenti grazie grazie luca le chiedo subito come faccio con tutti i premiati naturalmente questa è la domanda un po di rito un commento a caldo su questo riconoscimento beh ricevere un riconoscimento è sempre una grande emozione noi tra l'altro quest'anno festeggiamo 35 anni di attività quindi si aggiunge in un momento particolare dove stiamo festeggiando questa questo momento importante della nostra carriera di pubblicitari e di professionisti beh vedo alle sue spalle effettivamente un bel po di riconoscimenti e a breve insomma arriverà anche questo meglio è già arrivato però poi nel prossimo collegamento che faremo per il prossimo premio vedremo anche quello di quest'anno di questa edizione luca le chiedo eh abbiamo letto la la motivazione insomma un punto di riferimento proprio nel panorama italiano nel campo della comunicazione del marketing b2b la relazione in questo momento ancora di più è centrale visto quello che stiamo vivendo sì direi proprio di sì perché in questo momento le imprese eh non potendo andare fisicamente nelle fiere eh si attivano attraverso strumenti di comunicazione digitale per eh presentare i propri prodotti e i propri servizi attraverso appunto le piattaforme digitali quindi abbiamo messo in in pratica tutta una serie di attività e di eventi quindi non fisici ma digitali per mantenere il contatto con i nostri lead ecco i punti di forza dei clienti naturalmente sono messi sempre in superficie e al centro dell'attenzione ancor di più appunto la capacità di eh condurre una politica di comunicazione proprio a livello sartoriale no? Sì in inside storicamente infatti costruisce sempre un abito su misura per quanto riguarda le attività e gli strumenti di comunicazione tutto parte da una profonda analisi e ricerca su quello che il cliente ha fatto e gestito fino al nostro intervento per poi dopo fotografare la situazione e implementare con le nuove attività che consigliamo. Lo sguardo al futuro dov'è diretto Luca prima di salutarla? Beh lo sguardo al futuro è sempre rivolto alla tecnologia alla digitalizzazione e alle persone posso dire con estremo orgoglio che eh inside ha sempre creduto e investito nelle persone perché sono poi le persone che fanno grandi le agenzie e che fanno grandi progetti che poi presentiamo ai nostri clienti quindi un grande grazie va soprattutto al mio team che costantemente mi segue con tanta pazienza. E naturalmente i complimenti vanno a lei a Luca Targas io è direttore strategico di Insei Comunicazione naturalmente a tutti coloro che lavorano ogni giorno a tutti i progetti insomma e soprattutto quelli che verranno in futuro. Grazie ancora e complimenti. Grazie a voi. Grazie. Mille grazie.